17 ottobre 2019 Berlino? Ma siamo qui per X-Factor Quindi parliamo di musica Voci autorevoli Wikipedia C-Forma anche qui hanno preso il volo Nena I Kraftwerk I più recenti Tokyo Hotel Ma soprattutto che da qui è partita l'unica canzone tedesca Che qualsiasi italiano sappia cantare Tra le spalle pulizare Tra le pira Tra le pira Tra le puse X-Fa De K-X I-Venar Tu peda Tra le puse Sono Pierpaolo ma tutti mi chiamano Po Visto la puntata di 17 ottobre di X-Factor E volevo solo dirti una cosa La canzone tedesca più cantata in Italia Quella che hai detto di essere nata a Berlino come i Tokyo Hotel Non è tedesca Neanche un po' E tutta italiana mannaggia a Wikipedia Il cantante di Hans Fabriziai è nata a Mon Falcone Tutti i compositori del brano sono italiani Il produttore di Hans Fabriziai è l'unile dell'etichetta Su cui è uscito per la prima volta il disco è a Bologna La sede è a Bologna Tra l'altro ci sono in questo momento E questi sono alcuni dei rischi d'oro Che ha fatto Hans Fabriziai nel mondo In poche parole Ale Hans Fabriziai è l'unica canzone italiana Che tutto il mondo crede sia una cosa ormai Incluso te Mannaggia a Wikipedia Ciao Ale Ciao a tutti Ciao a tutti Autore dei sorrisi